Mahmood è uno dei protagonisti di questa edizione 2024 di Sanremo e con il brano Tutagold, in gara per la vittoria, si è già conquistato una bella fetta di pubblico e di stampa. Mahmood è uno dei protagonisti di questa edizione 2024. Ieri sera, però, Mahmood non ha cantato Tutagold ma si è esibito durante la serata cover di Sanremo 2024 in un pezzo iconico di luce dalla, come è profondo il mare insieme. Ieri sera, però, Mahmood non ha una performance, quella di Mahmood su come è profondo il mare, intensa e piena di pathos che ha emozionato tutti, soprattutto i fan di Lucio Dalla e quelli che non possono fare a meno di Asc. Una performance, quella di Mahmood su come è ma se in tantissimi hanno apprezzato la bravura del cantante e la sua estensione vocale e molti ci sono rimasti male per il fatto che sia stato escluso dalla classifica finale, c'è anche chi non ha pot. Ma se in tantissimi hanno apprezzato la bravura del cantante e la sua, un accessorio molto appariscente e, all'occhio degli esperti, molto ma molto. Parliamo dell'anello indossato da Mahmood nella quarta serata di Sanremo 2024, un gioiello in oro giallo traforato che, all'occhio dei più esperti, è stato subito identico. Parliamo dell'anello indossato da Mahmood nella quarta serata di Sanremo 2024, questo anello, infatti, fa parte della collezione Pantere di Cartier ed è un gioiello in oro giallo 750 millesimi, granati zavorite e onice dal prezzo. Questo anello, infatti, sul listino Cartier costa ben 25.700 euro. E se mettiamo insieme l'abito dolce e gabbana, gli auricolari personalizzati e tutti gli altri gioielli Cartier di Mahmood il prezzo del suo outfit Sanremo e se sale a di là del prezzo, però, una cosa è certa. Ma Mahmood ha fatto centro anche a questo Sanremo 2024 sia con la sua canzone Tuta Gold che con la cover di Dalla Com'è Profonto e i suoi outfit. Convincenti o meno, li ricorderemo a lungo e, alla fine, l'importante è che se un post condiviso da Sanremo rai chiocciola Sanremo